Prosegue spedito con sorprese e conferme l'ATP Challenger Roseto degli Abruzzi giunto agli ottavi di finale. Manifestazione sportiva collocata nel Comune Costiero al centro del tennis internazionale considerato che sono gli unici due Challenger in programma dal 7 al 20 marzo in Europa. Evento aperto al pubblico con giocatori affermati e giovani promesse. Sì, al momento diciamo che abbiamo avuto commenti favorevoli da tutti, anche elogi per i campi. Ieri per esempio il portoghese Borges che sta ai quarti di finale ha lodato i campi, dicendo che in Portogallo non ha mai trovato i campi così belli, così aggiustati. Eppure siamo in pieno inverno quindi ci fa molto piacere questi complimenti. Tante le persone che si stanno regando a Roseto per vedere queste partite di livello molto alto. Sì, diciamo che a Roseto comincia a rispondere. Abbiamo fatto un'iniziativa ancora più bella, l'abbiamo promosso nelle scuole dal lunedì al venerdì. Tutte le scuole della provincia di Teno, quindi dalla scuola primaria alla scuola secondaria, abbiamo dato l'ingresso gratuito per assistere il match e così comincia per cercare di avvicinare più ragazzi possibili a questo sport. Quanto lavoro c'è dietro all'organizzazione di un evento così grande? Guarda, non mi aspettavo che c'era un lavoro così grande. Io lo faccio da 40 anni questo lavoro e devo dire che è un lavoro veramente grosso. Considerate che già solo lo staff è composto da 120 persone che lavorano qua dentro. Quindi potete capire, coordinare 120 persone quando sia complicato. È un torneo per ora difficile, ci siamo trovati a difenderci con delle condizioni climatiche non facili, quindi per ora è stato un torneo difficile, però oggi già il tempo è molto meglio e sicuramente sarà una partita migliore rispetto alla prima e speriamo di portarla a casa. Sei giovanissimo ma già hai un importante scorrere dal punto di vista mondiale? Sì, piano piano il livello si è alzato e sicuramente anche la mentalità, quindi sto facendo bene e adesso devo continuare su questa strada perché sicuramente non sono arrivato e non mi sento arrivato, quindi devo fare molta strada ancora, però sono sulla strada giusta. Come ti sei trovato a Roseto? Beh, Roseto non la conoscevo, non la conosco, però abbiamo trovato il nostro ristorante e ci stiamo ambientando bene, quindi tutto bene.